musica ok, è già firma, sta già andando oh, allora, senti qua allora, ieri sera siamo stati a mangiare la mia figlia, Alice che mi ha fatto strafogare ho mangiato tre pezzi di torta per finire e stamattina abbiamo deciso di fare quattro passi per smantire tre fette di torta è mezz'ora che siamo partiti un'ora caro mezz'ora che siamo partiti ho solo smaltito forse una fetta forse e già lei mi comincia a dire che ora è ma io non le ho mangiate le tre fette di torta ho fatto un percorso di difficoltà media qua, dove vai? vedi qua sei fermo? sei fermo? sei fermo? allora, difficoltà media io vi sono testimone che ce la sto mettendo tutta per farla camminare ma non ci riesco è dura è picoccio come te che vuoi dire? io la torta tre fette alla prossima ve la racconto tre fette di torta non le ho mica mangiate ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.